L'anno scorso l'attività del pronto soccorso di Monfalcone ha mostrato un incremento di circa il 20% dei casi rispetto all'anno precedente, in linea con il periodo prepandemico, ma con l'aggravio della difficoltà gestionale dei pazienti covid positivi. Un trend che continua anche nei primi mesi del 2023, in cui sono stati registrati già 9.000 pazienti. Particolarmente atteso quindi il potenziamento dello stesso pronto soccorso e della medicina d'urgenza, illustrato in una conferenza stampa dal direttore generale di Asugi, Antonio Poggiana, insieme al sindaco di Monfalcone e ai direttori dei reparti interessati. Attivati due nuovi posti letto in terapia semintensiva, reparto in cui il tasso d'occupazione è stabilmente oltre il 100%, arrivando in alcuni mesi a picchi del 190%, con un tempo medio di degenza di 4 giorni. Potenziare i servizi di emergenza e urgenza è di una importanza cruciale, sia per rispondere ai bisogni di salute del cittadino, sia in ottica funzionalità dell'intero ospedale. In particolar modo il potenziamento, con aumento della dotazione dei letti di osservazione breve intensiva e semintensiva di 4 unità, dà la possibilità ai pazienti critici della terapia intensiva di essere trasferiti in sicurezza quando non hanno più bisogno della terapia intensiva. Annunciata inoltre l'apertura di un nuovo ambulatorio ematologico presso il Dipartimento di Medicina Clinica del San Polo. Dal 2 maggio, ogni martedì, un dirigente medico dell'ematologia di Trieste verrà qui a Monfalcone per fare una giornata dedicata ai pazienti di questa zona. Questo progetto nasce da una chiara evidenza maturata in questi ultimi anni che il numero di pazienti della aree isontina che necessita di assistenza ematologica è cresciuto nel tempo, sia anche ridotta la fuga verso altre aree geografiche della regione e fuori regione. Noi serviamo un numero di cittadini veramente molto più ampio dei confini geografici del basso isontino, arrivano ovviamente anche dalla bassa friulana, dal carso eccetera. Quindi i numeri dicono che c'è un fabbisogno importante, siamo quasi a 9, anzi senza quasi, a 9 mila pazienti in pronto soccorso nel 2023, abbiamo raggiunto i 39 mila nel 2022. È stata annunciata una cosa molto importante, la valorizzazione anche con incremento di risorse, di risorse infermieristiche e OSS e l'apertura di nuovi posti all'interno del pronto soccorso per l'emergenza. Quindi diciamo che il nostro è un pronto soccorso che sta crescendo in termini di disponibilità di ore lavoro, che è fondamentale, ma anche in prospettiva di riqualificazione degli ambienti. L'investimento che la regione ha fatto con fondi regionali di più di 70 milioni sta proseguendo nel suo iter progettuale. È la prima cosa che verrà realizzata perché c'è un grande bisogno. L'altro aspetto importantissimo dell'ambulatorio di ematologia.